Buongiorno a tutti, buongiorno amiche e amici. Oggi presenterò una ricetta facilissima davvero. Sto preparando degli splendidi pancake. Allora in realtà la ricetta nasce dal fatto che ho molti albumi in frigo. Come smaltirli? Sono otto albumi a cui aggiungerò 180 grammi di farina. Potrete usare una farina di mais, una farina di avena, una farina integrale. Io avevo la farina 00 quindi ho utilizzato questa. Alla farina ho aggiunto due cucchiaini di cioccolato amaro. Preparerò quindi dei pancake al cioccolato. Quindi albumi, farina con cioccolato amaro se ovviamente lo gradite e tre bustine di zucchero di canna. Lo zucchero di canna darà un colore ambrato al pancake e insomma risulterà più grezzo il palato. Io ne sto aggiungendo tre. Se invece non utilizzerete il cioccolato amaro ne potete aggiungere semplicemente due. Allora iniziamo. Facilissimo, utilizziamo una frusta a mano. Quindi montiamoli albumi. Per la precisione sono otto con tre bustine di zucchero di canna. Uno, due e tre. Quando preparate la vostra carbonara potete non buttare gli albumi ma utilizzarlo per preparare uno splendido pancake. Montiamo il tutto a mano. Ovviamente non verrà montato a neve ma l'albume risulterà solamente montato in un composto liscio ed omogeneo. I pancake possono essere conservati in frigo per un paio di giorni coperti con una pellicola perché da questa ricetta verranno insomma parecchi pancake. Oppure potete congelarli in bustine adatte al congelamento. Montiamo bene il tutto. Allora se lo preferite potete utilizzare anche una frusta non a mano ma a velocità veramente bassa perché gli albumi non devono essere montati a neve. Ok. Aggiungiamo poco a poco la farina con il cioccolato a pioggia. Allora. 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 Allora dobbiamo continuare a montare il tutto fino a che l'impasto non risulterà liscio e omogeneo. Se lo gradiamo possiamo aggiungere un cucchiaino di lievito per rendere il nostro pancake più soffice e profumato. Vi lascio per oggi a questa ricetta e mi raccomando non buttate più di album in cucina. Buona giornata a tutte.